Ciao ragazzi, Claudio Riotti della Gravity School, con me c'è Nick, il nostro nuovo aiuto coach. Siamo a Pian del Poggio e adesso ci facciamo la Two-Face, scusate per i movimenti ma sto mettendo il casco. Ok, pronti, come dice il nostro buon Luca Masserini, allegro ma non troppo, il ragazzo qua viaggia e adesso vi facciamo vedere un po' la pista che abbiamo deciso di usare per lavorare con i nostri corsi. Ci sono tre linee fondamentalmente e si lavora molto bene perché ci sono davvero tanti spunti. Qua si arriva su un pezzo in costa, sto già giocando mille jolly, pensare dietro al Nick, gli ho detto vai piano, vai piano. No, no, va bene, va bene, dai. Queste curve purtroppo hanno un po' subito il mal tempo di questo inverno, ma i ragazzi sono volenterosissimi nel Pian del Poggio Bike Park e hanno già praticamente sistemato diverse cose che gli abbiamo chiesto. Siamo in provincia di Pavia, ma in realtà siamo a un passo con la Liguria e c'è proprio un incrocio di quattro regioni, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Quindi è un po' come quel posto in America dei Four Corners dove con un piede puoi stare in pratica in quattro regioni. Ok, come si vede ci sono un po' di roccettine. Qua adesso si entra in una parte, ieri ha piovuto, quindi ancora abbastanza scivolosa e da starci all'occhio. Qua c'è un pezzo con delle linee fighissime che sta per arrivare ora, dove noi abbiamo deciso, esatto, di tagliare alti e sfondare qua. Molto bello. Bella Nick! Yeah boy! Ci sono tanti pezzi come questo dove bisogna mollare i freni. È un posto che merita comunque una visita perché è effettivamente pieno di spunti. anche qua ci sono mille linee. Qui tra l'altro passa la pista di Gravitalia dove c'è stata comunque la gara e volendo c'è anche molta roba tecnica. Quindi noi stiamo facendo quella che è un po' più la la easy, la linea più facile. Ci sono un po' di rampe che si possono droppare, scrappare. Qua c'è un altro saltino carino. Tutte cose abbordabilissime dove anche i nostri corsisti con poca esperienza di salti hanno veramente fatto grandi passi avanti oggi. Bella Nick! Qua c'è lo schiaffo! Yes! Qua c'è un altro schiaffo! Passi in mezzo alle piante e via! Qua si arriva in una parte molto carina con queste belle sponde in appoggio. Poi altro rampettino e qui si può veramente andare grossi! Sono andato un po' fuori ma ci stava! Qui si rientra ancora su un paio di spondine e come vedete il terreno. Cioè ieri ha veramente piovuto tanto ma qua il bosco è perfetto. Quindi non fatevi spaventare a volte dal meteo. Qua c'è una linea alta o una bassa. E qui siamo alla fine. Eccoci qua nel piazzalino. Bella Nick! Yeah! E quindi ragazzi potete venire a farvi un giro. Qua ci sono i nostri corsisti. A Pian del Poggio. Questo è l'arrivo. Il tempo oggi un po' ci ha graziati. E comunque merita. Pian del Poggio Bike Park! Alla prossima! Gravity School Riot & Nick! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!